Siamo abituati a utilizzare dei software di backup standard che non fanno altro che copiare i file database o intere macchine virtuali solitamente installiamo questo software nel pc o server di interesse o macchina virtuale che sia e procediamo alla configurazione oggi voglio parlare di una soluzione molto innovativa che si chiama Acronis Cyber Cloud se andate nel sito Acronis trovate la possibilità di registrarvi e ottenere un periodo di prova gratuito dell'applicativo per 30 giorni effettuate quindi la registrazione e una volta effettuato l'accesso vedrete che vi verranno assegnati dei prodotti in trial voi acquistate in cloud su Acronis direttamente prima il software che potete installare o non installare perché potete usufruire direttamente del pannello di controllo in cloud potrete acquistare spazio di archiviazione per ogni carico di lavoro che volete effettuare quindi per esempio nella versione trial vi danno un tera di spazio di prova vi danno un tera di spazio di prova per i vostri backup e vi danno un tera di spazio di prova per il disaster recovery questa è una funzionalità fantastica ora vi faccio vedere come funziona una volta quindi registrato e attivata la trial automaticamente se cliccate su ottieni prodotto potete per l'appunto come vi dicevo scegliere se installarlo in locale quindi scaricare tutto il pacchetto simile a un programma a un software di backup qualsiasi oppure di utilizzare direttamente la console in cloud che è questa c'è una dashboard in cui vi mostra i stati di protezione dei vari server o workstation o pc o virtual machine se io vado in dispositivi vado a cliccare aggiungi non importa che sia windows, mac, linux o un host di virtualizzazione io qui in questo caso in questo pc per esempio ho Hyper-V andiamo a scaricare il pacchetto per Hyper-V lui mi fa il download direttamente dell'applicativo mi andrà a fare un check di tutte le macchine virtuali che ho installate in questo caso un pc ma immaginate fosse stato windows server sarebbe stato uguale quindi il nostro server non importa quindi che sia in cloud o che sia un server fisico non c'è alcuna differenza lui mi andrà a fare un check di tutte le macchine virtuali me le mostrerà nei sistemi gestiti sul pannello a quel punto io potrò andare a creare dei piani di backup per esempio andiamo a creare un nuovo crea piano gli dovete assegnare un nome ok gli andiamo a dire che deve fare il backup dell'intera macchina nel cloud tutti i giorni alle 20 ecco qua ok il tempo di conservazione quindi c'è anche una redemption deve conservare un backup ogni 6 mesi 1 ogni 4 settimane e ogni giorno per 7 giorni mi chiede se voglio abilitare la protezione antivirus anti-malware perché praticamente il software può monitorare anche la gestione di vulnerabilità patch diciamo in generale può monitorare lo stato del sistema operativo quindi windows defender security sensor eccetera eccetera per ora lo disattivo disattivo tutto perché quello che ci interessa per ora quello che voglio farvi vedere è il backup proprio delle macchine e mi dice vabbè di scaricare un supporto di avvio non ci serve abbiamo creato il nostro piano che si chiama backup virtual machine giornaliere allora vediamo l'installazione ancora in corso attendiamo un attimo l'esito l'installazione è terminata a questo punto non dovete fare altro che registrare la macchina quindi clicchiamo registrare la macchina lui mi apre direttamente il management console e mi va a registrare quindi ok e mi registra il dispositivo ok a quel punto io nel mio pannello di controllo vedrò che apparirà vedete dei dispositivi e mi ha già rilevato che ho sei macchine virtuali presente nel mio server se avessi messo per l'appunto il client di installazione solo per windows lui mi avrebbe rilevato solo questo dispositivo ok in questo caso ho aggiunto proprio Hyper-V per mostrarvi come funziona quindi pc home è il pc su cui gira il sistema operativo base il sistema operativo host queste sono diverse macchine virtuali che ho in questo computer a questo punto andiamo a selezionare la macchina che vogliamo backupare clicchiamo su proteggi e andremo a selezionare il piano che abbiamo creato precedentemente quindi clicchiamo su applica e automaticamente la piattaforma cloud si occuperà tutte le serie di eseguire un backup alle 20 ora lo eseguo manualmente così vi faccio vedere un attimo come funziona ok il backup è riuscito ne ho seguiti un paio ora se andiamo in ripristino quindi clicchiamo qua troveremo i vari backup eseguiti possiamo andare a prendere quindi diversi backup cliccare su ripristino andare a pescare file o cartelle singoli nella nostra macchina oppure andare a prendere l'intera macchina non ci sono elementi perché la macchina è vuota altrimenti comunque mi avrebbe mostrato l'elenco dei file e cartelle quindi non c'è molta differenza finora da un classico software di backup installabile nei pc ma eseguito in cloud ok? qual è la cosa veramente differente? che possiamo sia eseguirla come virtual machine direttamente quindi se io faccio esempio come virtual machine mi può andare a selezionare un host di destinazione in questo caso un host hyperv mi dice come deve chiamarla quindi la chiamerà net server temp il percorso in cui ospitare il disco virtuale del backup localmente nel nostro server di virtualizzazione le impostazioni di memoria e degli virtual switch e se accenderla o meno se io clicco eseguo ora lui andrà a scaricare l'immagine della macchina di questo backup la seguirà nel mio hyperv locale come macchina chiamata net server underscore temp se noi abbiamo problemi nel nostro server per esempio ci chiama un cliente oppure voi avete un server che è fondamentale giri 24 ore su 24 potete andare in disaster recovery quindi ripristino di emergenza andare a prendere il backup interessato e lo potete direttamente avviare in cloud quindi Acronis vi dà la possibilità di avviare la vostra macchina virtuale che magari non parte più non funziona più il vostro server fisico è completamente KO potete avviarla direttamente nel cloud Acronis ok? pagando semplicemente il servizio va configurata questa cosa quindi se clicchiamo configura lui mi dice quale tipo di connettività avete bisogno mi spiego meglio nel caso in cui avete una macchina virtuale o un pc in cui giri un sito internet che è quindi accessibile semplicemente digitando un url nel browser a voi vi basterà utilizzare una connessione solo cloud quindi praticamente non serve che questa macchina abbia un indirizzo IP privato nella vostra rede LAN quindi non serve che abbiate un accesso diretto dalla vostra LAN a questa macchina tramite IP privato interno quindi se avete un sito internet demo.izuki.com se cliccate solo cloud avviate la macchina direttamente nel cloud Acronis il sito torna su non avete nessun problema ma se avete un controller di dominio il LAN che deve autenticare i vostri utenti in rete in atti direttori avete necessariamente bisogno di poterla pingare come se fosse in LAN da voi come se fosse in LAN com'è possibile? utilizzando una VPN da sito a sito Acronis praticamente vi da un file scaricabile tirate su questa macchina virtuale effettuate una piccola configurazione che ora vi mostro e praticamente una volta effettuato stabilito il collegamento potrete pingare questa macchina in locale è come se ce l'avete in locale tramite una VPN stabilisce una connessione sicura con i server di Acronis Cloud e vi permette per l'appunto di averla in locale attendiamo un attimo la configurazione ok la configurazione è terminata a questo punto possiamo andare a scaricare la nostra distribuzione ci chiede quale app vogliamo farlo girare su VMware o Hyper-V lo andiamo a scaricare per Hyper-V perché ho Hyper-V attendiamo un attimo ok download è terminato per cui abbiamo selezionato il nostro disco appliance scaricato da Acronis Cyber Cloud andiamo avanti fine la nostra macchina virtuale verrà creata la andiamo ad avviare e ha bisogno di una brevissima configurazione semplicissima ecco qua ci andiamo a loggare con le credenziali di default che sono admin admin ok andiamo ovviamente cambiate subito la password poi andate a registrare quindi cliccate register andiamo a inserire la login con cui effettiamo il login Acronis Cloud e lui automaticamente si registrerà andiamo a controllare nel nostro pannello di Acronis e vedremo che effettivamente segna linkato a questo punto se torniamo nel nostro dispositivo andiamo a selezionare ripristino di emergenza eccolo qua troveremo la possibilità di creare un server di ripristino quindi andiamo a creare un server di ripristino e andiamo a dire la quantità di CPU e RAM la rete cloud quindi la andiamo a selezionare andrà a rilevare automaticamente l'indirizzo IP della rete in produzione quindi questa è la macchina l'IP della macchina in produzione volendo potremmo accenderla anche solo per testarla e assegnargli un indirizzo di prova lo lasciamo comunque impostato creiamo creiamo crea a questo punto lui ci darà la possibilità di avviare questa macchina in caso di disaster recovery direttamente in cloud e soprattutto sarà come averla in locale spero di aver chiarito bene il concetto per comodità ho preso una macchina ho fatto il backup completo di un'altra macchina per mostrarvi visto che era molto più piccola rispetto a quella net server così non dobbiamo aspettare se clicchiamo quindi ho fatto un backup completo se clicchiamo come vi dicevo ripristino d'emergenza abbiamo la possibilità di effettuare per l'appunto il failover quindi se clicchiamo failover mi mostra la possibilità di fare una prova di failover quindi ne verrà assegnato un IP temporaneo oppure proprio se metterla in produzione proviamo a metterla in produzione via failover di produzione lui praticamente cosa farà mi andrà a accendere questa macchina virtuale direttamente nel cloud Acronis a quel punto grazie per l'appunto al sistema di interconnessione che abbiamo visto prima tramite VPN abbiamo la possibilità di pingare la macchina di utilizzarla proprio come se ce l'avessimo in locale ok per cui i nostri utenti non si accorgeranno neanche che in realtà stanno utilizzando una macchina in cloud piuttosto che una in locale se non per ovviamente le performance dettate dall'ampiezza di banda eccola qua quindi la macchina è praticamente accesa a questo punto se noi andiamo a visualizzare su disaster recovery andiamo a prendere la nostra macchina prendiamo questa macchina se andiamo in console ci fa vedere addirittura proprio la console della macchina come se fossimo lì davanti per cui possiamo interagire con mouse e tastiera direttamente con la macchina in cloud eccola qua una volta che abbiamo ripristinato le condizioni normali sul nostro server andiamo a fare il failback quindi praticamente si ripristina il server locale dal backup risultante quindi cosa farà ora? farà un backup di questa macchina che sta girando in cloud e poi la tirerà giù e la ripristinarà sulla macchina locale proprio per appunto per tornare alla normalità spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale mi raccomando attivate la campanellina e poi